Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo finalmente ad un nuovo episodio della Bachelor Challenge, un episodio particolare perché ragazzi siamo arrivati alla prima eliminazione di questa prima edizione della Bachelor Challenge. Allora le ragazze sono tutte in giardino, fa caldo e venerdì sera sono alle 21.37 quindi siamo praticamente in serata, come potete vedere alle ragazze è stato chiesto di indossare un abito nero, un abito elegante, ovviamente ognuna con la propria personalità ha preso questo invito diciamo in modo appunto personale. Mentre il nostro Albert Cooper è vestito un po' così, un po' con questa camicetta rosa e questa cosa adoro. Allora diciamo che la votazione sarà un mix tra la vostra votazione e la votazione di Albert. Albert ha stilato più o meno una classifica, diciamo che voi avete stilato una classifica. E paradossalmente ragazzi le due sim che voi avete votato di meno sono anche le due sim che Albert insieme a un'altra sim diciamo vorrebbe eliminare. Diciamo che c'è una sim che voi avete votato molto che era la terz'ultima e che quindi si salva grazie a voi principalmente. Diciamo che fra le due che meno avete votato lui sceglierà l'eliminazione, diciamo l'eliminata di questa sera. Ma indipendentemente dalla vostra votazione dove la prima classificata sarà praticamente avrà la possibilità di passare diciamo qualche oretta in questo episodio con Albert. Lui diciamo che vi faccio vedere un po' in base a come le chiama chi salva per prima e quindi a chi Albert piace. E la prima, partiamo subito ad essere chiamata ragazzi, non è niente proprio di meno che Tiana Bleh, 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 che Tiana è la preferita del nostro Albert che viene chiamata. Lei è un po' triste perché dice oddio mi ha chiamata per prima, magari mi elimina e io non voglio essere eliminata assolutamente. E Albert invece con un bel gesto romantico, vediamo se c'è la possibilità di offrire una rosa, le dà una rosa ragazzi e quindi le dice cara io a te ti do una rosa perché sei l'ami... lei non l'accetta. Favolosa, adoro! Tiana non l'accetta e dice oddio non so se posso accettare un flirt del genere però lui diciamo che le dice comunque si salva, sei la mia preferita per ora. E lei molto imbarazzata, forse perché era triste ragazzi, si va a sedere all'interno della villa. Lei non immaginava di essere la preferita quindi era molto imbarazzata ragazzi a ricevere questa rosa. Oddio lui è imbarazzato. Molto bene, la seconda ragazzi, ovviamente Tiana vi dico già, poi vi dirò magari, anzi ve lo dico dopo, la vostra classifica. La seconda ad essere chiamata e quindi essere salva è Marta Frank. Marta guardate è stupenda ragazzi in questo abito nero. Guardate che silhouette, io adoro Marta anche. E anche voi, lo devo essere sincero, lei si siede. Ok, non è fortunato il nostro Albert. Vediamo se con lei ci riesce a dare, no, complimentati per l'aspetto. Con un complimentati per l'aspetto lui le dice tesoro sei salva. La abbraccia Marta e salva e in più il nostro Albert le dice cara sei la preferita del pubblico ragazzi è stata la più votata dal pubblico e quindi dice preparati perché dopo questa prima eliminazione voglio passare del tempo con te. Il pubblico mi consiglia di stare con te. Quindi per ora Tiana e Marta sono le salve diciamo sia da parte di Albert ma ragazzi anche da parte vostra perché erano entrambe molto votate. Sì tesoro vai, benissimo. La terza ad essere salva e che quindi Albert salva è Ariadna Connor ragazzi. Eccoci qua, vieni Ariadna cara. Anche lei è triste, ha paura dopo due salvataggi di essere lei l'eliminata. Perché è triste in tutto questo? Festività terribile, molto bene. Ma lui la rincuora. Vediamo cosa si può fare. Amichevole, discuti della pace nel mondo, no. Esprimi ammirazione, ecco. Lui dice guarda Ariadna ti devo ancora capire ma io voglio continuare la tua conoscenza assolutamente. Quindi ti prego di rimanere e lei è molto contenta in realtà di questa cosa e quindi rimane nella casa ragazzi. Quindi Tiana, Marta e Ariadna sono le preferite diciamo le prime tre sul podio per quanto riguarda Albert ragazzi. Su questo podio appunto non c'è una sim che voi avete votato come seconda preferita e che in realtà lui non chiamerà subito ma chiamerà come terz'ultima. Quindi manca ancora una persona. E Albert, la persona che salva subito dopo è Ashley che invece ragazzi è flertante ragazzi. Guardatela che bella, lei è molto contenta e lei è molto sicura di sé. Vediamo la sua personalità, è romantica, amante della famiglia, ama la reperta e sim di casa. Quindi ragazzi lei sa di avere la personalità giusta per il nostro Albert che appunto ci prova a fare un bacio a mano ragazzi. Perché lei è flertante e lui ci prova e lei ci sta e le dice tesoro inizia un flirt con Ashley tra l'altro e gli dice tesoro non sei la mia preferita, non sei sul podio ma sei sulla buona strada, hai una bellissima personalità e ti voglio assolutamente continuare a conoscere. Quindi Ashley ragazzi anche Ariadna ora è flertante, perché ora è flertante Ariadna? Anche Ashley è salva e la facciamo sedere di qua. Vieni Ashley. Voilà, anche Ashley è salva ragazzi. Sono rimaste tre sim ragazzi, sono rimaste Lizzie, Sofia e Elizabeth. Ragazzi, ora Albert chiama prima di appropinguarsi all'eliminazione, chiama la terz'ultima. Ovvero ragazzi, la sim che voi avete votato come seconda preferita, quindi che a prescindere si sarebbe salvata grazie alla vostra votazione rispetto alle altre due. E questa persona è Lizzie ragazzi. Lizzie che comunque Albert chiama per terz'ultima, in realtà voi l'avete votata tantissimo. Diciamo che forse quello che, guardate energica, diciamo che quello che Albert un po' recriminalizza e che gli dice guarda sei troppo forse fissata sul tuo fisico, sul metterti in forma, che effettivamente forse non so se sei concentrata su di me. Quindi io ti salvo, ma mi devi dimostrare di essere qui per me, in realtà. E lei le dice, ovviamente, certo che sono qui per te, però io devo mantenere anche la mia fisicità, cioè io mi prendo cura del mio corpo. E anche Lizzie si siede. Ragazzi, le due sim meno votate, ovvero non votate affatto da voi, sono infatti Sofia Sloan ed Elisabeth, ragazzi. Sono due sim che non avete votato e anzi, una delle due avete anche scritto che non vi piace molto. Diciamo che, per quanto riguarda Albert, sono due sim molto similari per lui, non si differenziano molto per quanto riguarda appunto il nostro Albert. Però Albert, ovviamente, deve scegliere una delle due. E c'è una persona con cui ha stretto più rapporto, oh voilà, guardate che immagine, sono tutte e due super tristi e super preoccupate, ragazzi. E Albert, come vedremo adesso, come potete vedere, tra Sofia ed Elisabeth, ha una barra di amicizia più alta con Sofia. Vedete, Lizzie era meno alta di Sofia, quindi in realtà l'eliminazione sarebbe stata, forse, fra Lizzie ed Elisabeth. Però Lizzie aveva talmente tanti voti, ragazzi, che ovviamente non potevo mandarla a rischio eliminazione. Nella bottom two ci sono Sofia ed Elisabeth, che non hanno ricevuto neanche un voto da parte vostra. Quindi, ovviamente, ragazzi, chi si salverà, chi si salverà, cioè, si salva Sofia in realtà. Elisabeth è la nuova, è la prima eliminata e lo immaginavate anche voi. Quindi, complimentati per l'aspetto con la nostra Sofia Sloan. E lei, diciamo che non accetta molto, gli dice, guarda caro, per me non dovevo essere fra le ultime due, perché comunque c'è chi, secondo me, meritava di essere fra le ultime due. E lui le dice, guarda, il pubblico non mi ha lasciato scelta, non ti vuole, e però io voglio darti comunque una possibilità. Bene, Sofia entra in casa e la nostra Elisabeth, purtroppo, ragazzi, Elisabeth Black, la sim di Elislytherin, purtroppo, ragazzi, è la prima eliminata. E quindi, amichevolmente, lui l'abbraccia e le dice, guarda, Elisabeth, sei una brava ragazza, ma non credo tu faccia al mio caso. Sei ambiziosa, hai la testa calda, quindi, boh, non lo so. Lei si fa un selfie, giustamente, e dice, va bene, me ne vado, me ne vado assolutamente. Allora, ragazzi, la nostra Elisabeth è stata eliminata e ha lasciato praticamente casa. E cosa succede? La cosa che lui decide di fare con la prima in classifica è giocare un po' a freccette con la nostra Marta Frank. Allora, ragazzi, Albert è triste per la festività, Marta Frank è stata la più votata con sette voti. Poi abbiamo avuto Lizzie con sei voti, appunto, che però non era molto voluta da Albert. Poi abbiamo al terzo posto, a pari merito, Ariadna e Tiana con cinque voti. Poi avevamo Ashley con tre soli voti e poi, appunto, Sofia ed Elisabeth con zero voti, ragazzi. E quindi, come dire, ora dovete votare, votare, votare. Cosa succederà, ragazzi? Nei prossimi due episodi il nostro Albert andrà a, appunto, sondare un po' il terreno un po' più in maniera stretta. Nel senso che farà due uscite separate con tre di loro in un episodio e con le altre tre nell'altro episodio. Ovviamente, ragazzi, la nostra Lizzie si dovrà rimettere in pari e il nostro Albert ancora non gli fa proprio delle... Non le mette alla prova in realtà perché farà due uscite separate e li porterà sempre in un posto, diciamo, in un lotto comunitario dove si potranno divertire e passare, appunto, del tempo insieme e vedremo, appunto, cosa succederà. Intanto, Marta e Albert stanno giocando a freccette. Complimento sincero. Vediamo, Marta, se ha qualche desiderio. Chiedi un appuntamento. Allora, chiedi un appuntamento no, però, tesoro, mentre giocate, tu, anziché chiedere un appuntamento, puoi essere un po' più romantica. Quindi, complimentare per l'aspetto il nostro Albert e magari esprimere ammirazione, nel senso che dici, guarda, io sono contentissima di essere stata chiamata come seconda per quanto riguarda, appunto, la scelta e l'eliminazione perché penso che comunque mi piaci e quindi voglio conquistarti. Lei è vegetariana, ragazzi, e poi è sicura di se stessa. Ed è anche attraente, quindi molto bene. Albert sta vincendo 4 a 1, ragazzi, in tutto questo. E il nostro Albert, ovviamente, oddio, non può, può complimentarsi per l'aspetto e dire guarda, Marta, indipendentemente perché ho potuto vedere in pochi giorni, vi ho potute conoscere tutte e sette, però devo dire che te sei proprio bella, insomma, quindi non mi lascio scappare. Sicuramente una bellezza del genere, insomma. E giocano, vediamo come giocano e poi, ragazzi, ovviamente, ragazzi, la nostra Bachelor Challenge torna sabato di già, quindi restate, diciamo, stay tuned, come si dice, restate in contatto, ragazzi, perché, appunto, ne vedremo delle belle, insomma. Sono 6 a 6, quindi Marta ha recuperato. Su c'è grande carica, fai che un sim raggiunga il massimo della forma fisica, credo si riferisca a Lizzy, perché Lizzy ha raggiunto il massimo della forma fisica. Per l'appunto, Marta, c'è qualche desiderio? Fai fichi fichi nel cespuglio. Marta, no, però, siccome sei così flirtante, io ti faccio essere... È riuscita a battere... Marta è riuscita a battere Marta per 6 a 6. Vabbè, flerta un po'. E... Lui ci sta, ci sta, ci sta. Poni una domanda spinta. È iniziato anche un flirt, appunto, fra Marta e Albert. Flirt, flirtiamo ancora. Se lo merita, è la più votata, ragazzi, è la prima più votata. E... Non è andato a buon fine questo flirt, questo porre una domanda spinta. Marta, ma ti devo insegnare un po' di robina. No, diciamo che ci proveremo più in là. Va bene, ancora non è il momento, forse, di flirtare. Bene, ragazzi, allora io concluderei qui questo episodio. Vi invito a iscrivervi al canale. Di commentare, ovviamente, con la vostra preferita già da ora. Poi, ragazzi, niente, mettete mi piace a questo video e nulla. Restate in contatto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche del nuovo gioco Zutikon che ho portato sul canale. E, ovviamente, arriverà domani un altro episodio del gameplay normale di The Sims 4. E poi, ragazzi, mi sa che farò un piccolo riassunto per tutti i nuovi iscritti. E ricominceremo dall'episodio numero 1. Quindi, niente, ragazzi. Fatemi sapere anche cosa ne pensate dell'eliminazione. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.